Ed eccoci qui ragazzi, ed eccoci qui, buongiorno, buongiorno a voi. Come state? Come va? Spero tutto bene naturalmente, io spero voi stiate tutto bene, bene, non so perché ho sfasato così, spero voi stiate tutti bene e che possiate passare una tranquilla giornata. Giornata che tranquilla invece non è stata e non sarà per la Juventus, per il calciomercato della Juventus, perché ci sono delle novità proprio che sono uscite poco poco tempo fa. Spoiler, avevo registrato un video, appena ho finito di registrare stavo pubblicando per caricarlo. Ecco, perfetto, sono uscite otto notizie una dietro l'altra, quindi adesso ne parliamo. Ma prima vi ricordo, prima vi ricordo di lasciare un mi piace o un dislike se vi sto sul cazzo, questo è il classico, è la classica cosa che bisogna fare, e commentare dicendomi la vostra, perché io voglio avere interazione con voi, commentate, 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 iscrivetevi, l'ho già detto, sì, fa niente. Allora, prima notizia bomba che è uscita, bomba, prima notizia importante perché si riduce ancora una volta, ancora di più, sempre di più, sempre di più, il numero degli esuberi, che esuberi per me non sono, però sulla lista lo sono. Nicolussi Caviglia, Nicoschira ha dato l'esclusiva che domani, cioè oggi, per me domani perché sto registrando di notte, oggi dovrebbe firmare un contratto con il Venezia, oggi è il giorno in cui Nicolussi Caviglia diventerà ufficialmente un giocatore del Venezia. Cosa dire? A parte che mi dispiace tanto, dal punto di vista umano, perché con Hans lo conosco, e dal punto di vista invece professionale, mi auguro che Hans possa far benissimo a Venezia, perché se lo merita, è un ragazzo d'oro, e spero possa trovare a Venezia quella continuità che merita, e trovare quella piazza che possa sostenerlo, che possa farlo crescere, e quell'ambiente che gli possa permettere di fare quel salto definitivo di qualità, perché per me Hans le qualità le ha, l'abbiamo visto anche quest'anno, l'anno scorso, la scorsa stagione quando è stato chiamato in causa, Hans è un giocatore vero. Hans per me è un giocatore che se tu ci credi, se tu credi in lui, lui ti può dar tanto, perché è un ragazzo intelligente, è un ragazzo colto, è un ragazzo sveglio, è un ragazzo che ha i miei stessi gusti musicali, quindi diciamo che anche per questo è una grossa simpatia per lui, però spero veramente che a Venezia possa trovare la sua piazza, possa trovare la condizione migliore per tornare ad essere quello che l'infortunio al ginocchio ha rallentato tutte le sfortuni, quindi mi auguro possa trovare una felice carriera, e spero di rivederlo presto. Poi, un'altra notizia molto importante che riguarda un ex esubero, un ex esubero che però adesso non è più esubero, perché è diventato ufficialmente un giocatore rintegrato in Rosa, ed è, si parla di McKennie. McKennie è un giocatore che adesso dovrebbe aver trovato il rinnovo di contratto, meglio, dovrebbe aver trovato la quadra per il rinnovo di contratto con la Juventus, un giocatore totalmente ristabilito in pianta stabile, l'abbiamo visto anche, l'abbiamo visto in panchina contro il Como, purtroppo ancora fuori forma, anche perché non si è praticamente mai nato quella squadra, però su McKennie cosa si può dire su questo rinnovo? Io ho due opzioni, e che sono, penso, quelle che più o meno condividiamo tutti. La prima opzione è che questo rinnovo viene fatto appunto perché è di basso, e permetterà al calciatore di mostrarsi a Tiago Motta per provare a rimettersi in gioco, per poi tornare l'anno prossimo a essere al centro di quello che è il calciomercato, e non essere appunto a scadenza di contratto. Seconda mia ipotesi, seconda ipotesi che ho provato a pensare, è che questo rinnovo possa effettivamente permettere al ragazzo, invece di provare a ristabilirsi definitivamente alla Juventus, che possa far sì che possa aiutare anche il ragazzo a tornare sulla breccia, a tornare su quella che era carreggiata, perché nell'ultimo periodo di McKennie abbiamo sentito i dicotti di cruda, ha rifiutato la Premier League, per farvi capire, ha rifiutato l'Aston Villa. L'Aston Villa ha rifiutato l'Aston Villa, secondo me è una scelta assurda, fatta dai capricci che non condivido, anche se alla fine qua ne esce vittoriosa la Juventus, perché ottiene un giocatore valido e adatto al progetto, perché per me McKennie è adatto al progetto, un giocatore molto duttile, è un giocatore intelligente, non sottovalutiamo Weston, è un giocatore che può dir la sua con Motta. Io lo dico, per me la Juventus fa win-win, cioè qua c'è proprio win-win della Juve, ottiene un calciatore valido a prezzo ridotto, punto, hai vinto te, la figura di merda la fa lui, questa è la mia modesta opinione. Arriviamo adesso però alla notizia vera, alla ciccia, alla ciccia. Chiesa al Barcellona. Chiesa al Barcellona, oggi mentre ero in live con il bianco-nero, fra parentesi, e ringrazio ancora una volta per l'opportunità che mi ha dato, è arrivata la conferma dei Romeogresti, Chiesa è veramente un obiettivo del Barcellona, il Barcellona pensa veramente Federico Chiesa, e secondo me questa trattativa è una di quelle che non si possono far scappare, cioè sia da parte di Juventus, sia da parte di Federico Chiesa. Perché da parte di Juventus? Perché la Juventus adesso ha i giorni contati. Quali squadre possono concretamente prendere Federico Chiesa? Quali? Concretamente, non è per ipotesi, concretamente. Sono veramente poche, cioè a meno che non arrivi una club di Premier che dica ok, il Chelsea che tanto sta pigliando tutti, dice pigliamo anche Chiesa, cazzo ne so, ti diamo Sterling in cambio, cosa che non mi auguro, e ci pigliamo Chiesa, un'ipotesi, se no qua le altre squadre. Quindi penso che la Juventus alla fine riuscire a trovare la quadra, non credo si vada sotto di 15 milioni, o meglio, cercherà di andare in quella direzione, anche perché sennò c'è meno svalenza sul cartellino, e ci andresti a perdere. E perché, secondo me, invece anche Chiesa dovrebbe stare molto attento a questa traccia, e per come la vedo io, punterà tanto da andare là, per appeal personale, perché mettiamoci nei panni di Federico Chiesa, la Juventus lo scarica, non rinnova il contratto, viene messo fuori rosa, e già qua sei nella merda. Cosa puoi fare di meglio? Cosa puoi fare? Dove puoi andare? Cosa c'è meglio della Juve? A cosa puoi puntare meglio della Juve? Visto che hai rifiutato il rinnovo alle condizioni della Juve, visto che appunto hai rifiutato il rinnovo nella Juventus, non è giusto dire alle condizioni della Juve, visto che non hai accettato rinnovare con la Juventus. La Roma? Bell'ambiente, ma non è un gradino in più rispetto alla Juve. Napoli? Ha preso Neres. Che ci fai a Napoli? C'ha Kvara dall'altra parte. Torni a fare la riserva a Kvara o a Neres? Non credo. Fenerbahce? Hai rifiutato. Le offerte c'era. La Juventus avrebbe anche accettato, ma hai rifiutato. Barcellona. Barcellona. È la scelta perfetta, secondo me, per Chiesa. Perché è una squadra che, come appeal, sei al top. Cioè, è uno dei top club mondiali. Il Barcellona. Non prendiamoci in giro. Cioè, quali squadre sono meglio del Barcellona? O meglio, come storia? Credo poche. Quindi andresti a giocare una squadra che compete per il campionato. Un campionato valido, come quello spagnolo. Sei in un contesto che può valorizzarti. Giochi la Champions League. Adesso mi sfugge, ma potresti... Giochi il mondiale per il club, perché se il Barcellona giocherà il mondiale per il club, semplicemente cambieresti stato, cambieresti il campionato. E anche per Chiesa, si può dire che è l'ultimo treno. Questo è veramente l'ultimo treno, per Chiesa. Cioè, se non accetti questo e va a farsi benedire anche questo, io la vedo veramente dura. Meglio di al Barcellona, al momento penso che non ci sia. Cioè, questa è in mano dal cielo per Chiesa. Prendila. Chiesa, prendila e fammi tu. Cioè, proprio, c'è scritto fammi tu. Quindi, mi auguro che Chiesa possa andare là anche dal punto di vista del tifoso. È un motivo, perché faticherei a vederlo in un'altra società italiana. Ah, ultima cosa, Calulu. Abbiamo visto che ha preso la 15, benvenuto Pierre. Sono contento per te. Spero, io ti ho già messo come blocco schermo. Sì, è una cosa un po' così, però, ho messo Calulu che fa così, come blocco schermo. E mi auguro che tu possa, che tu possa far bene. Ecco, mi auguro questo, e che tu possa fargli mangiare le parole che sono state dette sul tuo conto, perché sei un giocatore valido, a tutti gli effetti. Questo è, ragazzi, io vi ricordo, iscrivetevi al canale, ditemi la vostra, ditemi la vostra, lasciate un mi piace, se vi è piaciuto il contenuto, un dislike, se vi sto sul cazzo. E niente ragazzuoli, noi ci vediamo presto, con un nuovissimo video. Ciao ragazzi. Ciao.